... Stasera sono particolarmente felice per due ordini di motivi. Il primo perché mezz'ora fa abbiamo inaugurato nel quartiere Sant'Anna un'opera pubblica di interesse sociale molto rilevante. E' la riqualificazione dell'area adiacente alla chiesa San Gregorio Setti. Il secondo motivo che mi rende felice è che stasera, dopo 4-5 anni, questa villa ritorna a vivere. E' questo grazie ad un gruppo di cittadini di Battipaglia, un gruppo di persone che hanno dato la disponibilità a mettersi in gioco, a misurarsi in modo a titolo gratuito per realizzare questo evento. E quindi un doveroso grazie al Presidente della Proloco, Fessolone, un grazie all'Oreta Mastronarco che ha ideato, ha redatto il progetto, un grazie al Direttore Artistico, Guglielmo Francese, un grazie agli assessori Casillo e Viscito, un grazie al Comando di Polizia Urbana, ai tecnici del Comune, all'Albarove, a tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questo evento. Ma un grazie particolare bisogna darlo alle associazioni culturali che hanno dato la disponibilità e quindi si sono impegnati a realizzare questo evento. Questo è un evento che questa amministrazione ha voluto con bozza, con tenacia, perché volevamo dare un segnale di rinascita di questa villa comunale che per il passato tra l'altro è stato luogo fertile per i spettacoli e anche per la cultura. E voglio ricordare la città dei ragazzi ideati e realizzati da Carmine Battipede. Noi vogliamo andare in quella direzione, l'abbiamo detto in campagna elettorale, noi vogliamo fare di battipaglia una città, la città della cultura, vogliamo fare una città solidale, vogliamo fare di battipaglia una città delle imprese. Ebbene, questo sistema culturale ricco di eventi, che dovrebbe far recuperare un'identità, il senso di appartenenza al territorio, lo vogliamo realizzare con le capacità, con le professionalità, con le intelligenze di questa città, come abbiamo fatto con questo evento. E questo è solo l'inizio, perché Battipaglia deve diventare un laboratorio culturale, ricreativo e produttivo. È solo l'inizio perché viviamo un momento difficile, comune e verso in una situazione particolare di difficoltà economica, che non dobbiamo mai dimenticarlo di dire, ma nello stesso tempo ci sono grosse opportunità. Noi vogliamo dare un segnale di risveglio a questa città. E l'abbiamo dato. Abbiamo chiamato all'unità raccolta le associazioni culturali del territorio, hanno dato la disponibilità e ogni forma di attenzione. Io li ringrazio, fortemente dico grazie. Per il futuro potete contare sulla disponibilità dell'amministrazione. Ma viviamo il presente con soddisfazione e guardiamo il futuro con ottimismo. Grazie di nuovo. E agli cittadini voglio augurare di cuore un'estate bella, meravigliosa, all'insegna dello svago, del divertimento, della cordialità e soprattutto della solidarietà. Sull'impegno dell'amministrazione potete sempre contare. Ma vivete l'estate all'insegna dell'amore per Patti Paglia. Grazie.